Il nome non ce lo dici? Samuele Segoni Movimento 5 Stelle Noi siamo esotati La prendo volentieri La prendo volentieri Poi vi manderemo un dossier più diciamo così consistente e dettagliato Sicuramente Appoggiateci perché noi siamo nella disperazione più assoluta Sicuramente Siamo circa 400.000 e ancora non sappiamo nulla Né dall'Inps la Fornero Sta solo a piangere ma non ci dà nessuna Conoscete? Conosciamo il problema Samuele scusa ma tu non voterai nessun governo? No 35 E ora devo iniziare a rientrare dentro Nessun governo? Scusate devo rientrare a rientrare dentro Ma te sai da dove andare Scusa non c'è una possibilità nella quale tu possa dare il tuo voto positivo? Ciao ragazzi Ciao Mi raccomando Cambiamo questo paese dai Bertini Grazie per la visione Grazie a tutti